Qui con la dottoressa Marinella Loddo, presidente dell'ufficio ITA di Milano. Ecco, quanto è importante l'Expo Center per le imprese italiane? L'Expo Center in quanto ente fieristico russo è sicuramente un punto di riferimento per le aziende italiane interessate a presentarsi su questo mercato. L'ente fieristico con il portafoglio di iniziative che variano dai prodotti dei vendi di consumo a quelli più tecnologici o quelli della meccanica rappresenta sicuramente un punto di riferimento per le aziende che vogliono affacciarsi o consolidare la loro posizione sul mercato russo. Ecco, parliamo un po' anche delle iniziative dell'Italian Trade Agency per le imprese. L'ICI ha un ricco programma di iniziative sul mercato russo. Continuiamo la nostra presenza dei principali enti fieristici, molti dei quali è organizzata appunto da Expo Forum. E poi un'altra attività molto importante che abbiamo già intrapreso da alcuni anni è quella di favorire il radicamento delle imprese italiane sul mercato russo, non soltanto nelle zone più conosciute, Mosca e San Pietroburgo, ma anche in quelle regioni e province che non ampiamente conosciute offrono grande opportunità. Grande collaborazione pertanto per favorire la cooperazione economica e commerciale, il trasferimento di tecnologie, attività che sono molto richieste in questo momento sul mercato russo. Ultima domanda, parliamo anche un po' delle attività di supporto che l'ufficio, l'indice, l'invitami scusi, offre alle imprese che intendono internazionalizzarsi. Sì, attività che riguardano essenzialmente la formazione sulle attività che possono essere sul mercato russo, ma sicuramente l'incontro con le controparti locali. Quindi un'azienda che è interessata a presentare il prodotto sul mercato russo troverà presso i nostri uffici a Mosca e a San Pietroburgo sicuramente dei colleghi in grado di indirizzarli per trovare il giusto partner che può essere un partner commerciale, un partner per attrazione di investimenti, un partner anche di collaborazione economica e commerciale. Grazie.